bentorni e potremmo venire nel 7 episodio di uncharted drake fortune e io come sempre sono già da ruoto e ragazzi ho già registrato questo episodio e non so cosa è successo ma non è registrato quindi dovrò rifarlo da capo il capitolo anche se non avevo fatti due insieme tipo questo è il prossimo quindi dovrò visto che già lo so dovrò soffare la parte prima che cominci il capitolo prossimo perché è tutta una sequenza lunghissima fidatevi intanto sopra un altro mio amico in classifica per le uccisioni così a caso perché sono un akab io già so se dobbiamo raggiungere quella torre ragazzi quella torre là su davanti a noi già lo so perché l'ho fatto lo so fidatevi volente o nolente già lo so non ci posso fare niente mi dispiace tantissimo anche perché è veramente bello quel video mi dispiace tantissimo che non lo vedrete mai davvero mi dispiace tantissimo spero che questo venga anche meglio anche perché già so cosa succede quindi in che oggi la dovrei fare tutte le cose per bene in teoria in pratica proprio non lo so intanto prendiamoci la cappa perché vi servirà tantissimo tiratevi dobbiamo dire questa leva per prima cosa entrare come si ha visto come si può vedere da qui allora se guardiamo sulla sinistra adesso vedremo questo dobbiamo raggiungere la torre per prendere la chiave praticamente niente di più difficile di poi no 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 proprio no ragazzi fidatevi che ci vorrà un pochino non tantissimo però ci vuole il tempo che ci vuole intanto facciamo scappare un gabbiano perché noi siamo cattivi so che non è la stessa cosa di fallo in prima run però raga se sa che succedono queste cose attenzione qui anche qui sta in and sono morto la prima volta perché non mi era accorto che c'era il cerchio in basso a sinistra e sono morto si saltiamo saliamo qui sopra scendiamo per di qua saltiamo ovviamente no intanto lui ripò lui intanto riposa quello là sotto morto poverino io sto arrivando da una giornata veramente triste ragazzi da tifoso romanista domenica scorsa è stata mio dio uno dei giorni più tristi della mia da tifoso che uno può fare lo so che non me ne frega niente però nei blog dicono le peggio cavolate perché non posso dirle giusto via perfetto questo neanche neanche prima l'ho sbagliato ma al bacio proprio si trova insieme a questa torre intanto quello che cerchiamo e andiamo a prenderlo proprio scialla e dove lo saremo dire di voi vicino a una bella donna no sopra uno scheletro ovviamente ma è una volta che cioè si trova una bella ragazza davanti che ci dà le chiavi ma purtroppo quando mai no ma è una gioia nella vita veramente ora possiamo aprire la porta avendo le chiavi e ora però inizia uno dei pezzi più difficili che ho affrontato fino adesso intanto prendiamo le granate munizioni e qui ragazzi ci sta un'altra un'ennesima imboscata io mi metto qui perché prima funzionava abbastanza bene però mi prenderei la pistola qui perché servirà lo so per certo questi non si avvicinano più di tanto quindi ci toccherà sparare un po' alla cieca ma io dico no la mia mira fa qualche problema secondo me soprattutto nei giochi non che in realtà sia meglio eh attenzione però è una granata e lo sapevo lo sapevo approfittiamone per ricaricarci un po' la vita soprattutto adesso ne ho vinto uno che si avvicinava da destra e va bene altra granata io questi ti odio per questo motivo lanciano granate a profissioni che non finiscono mai madonna mia che è mancato pochissimo ok in questo pezzo nello scorso video sono morto un paio di volte ve lo dico sinceramente forse questa è la cosa che non avreste potuto vedere quindi ora lo cerco di farlo bere ci provo almeno ma questi tiranno le granate prima o poi la mia domanda cioè non possono essere infinite è vero? un'altra va bene metti di attaccare a sto muro ok e un'altra un'altra ragazzi non ci posso fare niente questi lanciano granate e io devo allontanare per forza un altro è andato perfetto spero possono lanciare una granate alla volta una granata sola perché sinceramente questa cosa è noiosa un altro e ho finito quasi finito le munizioni porca trota però ripigliate e un'altra granata niente questi c'hanno il pallino delle granate che non lanciano una granata almeno una volta ogni cento non sto contenti esplosa bene morto adesso pare che siano finiti ho i miei dubbi siano finiti però spero la speranza è l'ultima a morire come si dice no ragazzi ora io farei saltare questo fidatevi è meglio farlo saltare lo so per certo che è meglio farlo saltare perché sono morto proprio mentre cercavo di girare quella manopola per colpa indivinati di che? non è facile lo so è difficile immaginare chi sia stato uccidermi oh moneta d'argento spagnola intanto grazie molto gentile ora cerchiamo di girare sto coso ovviamente i nemici non sono finiti ragazzi quindi proprio scialla come se ne so di no ne troveremo ancora bizzette fidatevi sei morto sei morto non credo sei morto non credo qui ci saranno anche un paio di quelli col pompa ragazzi quindi attenzione e mori grazie ah non è morto tu ora sei morto si grazie molto gentile prendiamoci un po' di munizioni per la cappa perché sono abbastanza poche munizioni munizioni che schifo non fanno mai ah ah lo sapevo se l'ho buttato lato per un buttercrawl eh a cagare una piccola vendetta attaccati no forse non mi prende infatti adesso come la mettiamo che sono io al comando eh ah vendetta vendetta allora ragazzi qui nello nel video che ho perso c'era un tesoro se siete interessati qui c'era allora dobbiamo vedere di qua adesso che troveremo diciamo qualcosa di interessante perché non parte la gazzin ok ecco queste non spagnolo sono inglese wow fletcher ma cosa avevi in mente bella domanda non puoi ricaricare mentre c'hai uno col pompa davanti dannazione non puoi è illegale questa cosa eppure io però comunque che non ricarico prima non commentiamo ah è meglio già quindi sono un paio di nemici intanto uccidiamoli perfetto ah un po' di munizioni meno male ok allora questo pezzo l'ho già fatto quindi ovviamente so cosa devo fare dobbiamo sedere qui ovviamente dobbiamo fare un po' di platform ragazzi perché altrimenti non sarebbe la naughty dog sapete com'è no saltiamo saltiamo via ok dobbiamo andare per di qua non manca tanto alla fine del capitolo fidatevi anche perché prima che finisca il capitolo dovrò stoppare perché altrimenti partirà un'altra scena che quella è abbastanza lunga credetemi è bella da vedere fidatevi è molto bella come scena però è lunga veramente lunga vi dico solo che il video mi è venuto lungo 30 minuti solo per quella scena quindi erano 15 minuti di registrazione solo per quello il che è tutto dire ok ragazzi questo è il punto vi ringrazio di visto il video lasciate like o commento sempre se volete iscrivetevi al canale al vostro giorno per il tutto stay hollo no no